ciao a tutti benvenuti al mio canale io sono bea questo bisbeauty ho preso queste caramelle che basicamente sono dei funghi sono tantissimi funghi dentro di una caramella ci sono 3.000 micro di caramelle basicamente sono vegani sono gluten free sanno bene non hanno alcol gmo e tantissime cose basicamente sono super extra buoni e hanno come 10 diversi funghi e ognuno fa qualcosa di diverso come questo che dà il focus cioè infocarti poterti infocarti meglio calmness cioè di rilassarti per la immunità e per l'energia e ci sono tantissime altre che e basicamente basicamente ti aiutano a non avere questo fog mentale e poterti concentrarti meglio e stare più calmo allora voglio farvi la review vera perché ovviamente si vedono queste cose su instagram li ho comprati anzi su instagram e perché mi uscivano ogni cinque minuti gli ads di questa cosa no e poi va bene ci proviamo perché io ero pure super stanca ultimamente super stanca e non avevo proprio energia per niente quindi vabbè ho deciso di prenderli finora io sto trippando perché stanno andando da dio veramente bene e posso sentire il cambio assolutamente cioè sento la l'energia che ho ma soprattutto altro che energia sento la concentrazione che sono più meno distratta diciamo così distratta si dice vabbè io ho iperattività e sono super iperattiva e super energetica quindi questo devo dire che lo sento lo noto non è una cosa super strana di che non ti puoi concentrare nient'altro che una cosa no niente di che è molto naturale lo sento molto meglio lo sto prendendo da una settimana e mezza li metto qua da una settimana e mezza e ho preso due due bustine perché vengono dagli stati uniti e ovviamente mi ha costato gli aduane o come si dica 8 euro 50 qualcosa del genere e ho pagato per queste due bustine che sono per un mese ognuna lo è stato 60 euro quindi 68 in totale e vediamo cioè io mi sento meglio vediamo alla fine del mese come sto ma c'ho un'altra bustina sono stata malata settimana scorsa come potete vedere ancora ho un pochino cioè non riesco a parlare benissimo quindi non lo so potrà prendere questi succhi di arance naturale eccetera e mi sto guarendo non ho preso molte medicina una volta al giorno nivoprufeno paracetamolo e per il resto non lo so mi sento abbastanza bene mi sono pure allenata sabato mattina che non mi allenavo da due mesi quindi la verità è che per ora mi piacciono di brutto li consiglio assolutamente almeno di provarli ognuno ha il corpo diverso quindi li senteranno meglio o di meno non lo so dipende dalla persona però questi funghi sono stra incredibili se è stato provato che ti rifà crescere le neurone o qualcosa del genere ragazzi devo andare al lavoro però vi consiglio di brutto almeno provare una volta questo va da dio grazie per aver guardato il mio canale suscriviti se non lo sei già e benvenuto a un mondo di fantasia di queen bee